Francesco Ginanni, vincitore di due edizioni dell'Aigueglia, in cerca del Triss? Sicuramente, proverò a vincere per la terza volta, è una gara che ci tenga in particolar modo e vorrei far bene. La condizione c'è e spero di riuscire a fare una buona gara. È particolarmente duro quest'anno il percorso? Sì, ho visto. Come pensi che te la caverai? Ho visto che è molto impegnativo, io mi sono preparato bene, sto bene, ho fatto dei test dal Mediterraneo e in salita avrò sposto bene, quindi sono molto fiducioso. In bocca al lupo? Grazie per il lupo, grazie.